Dichiaro chiusa la votazione. Via al processo contro Salvini dal Senato, il via libera all'autorizzazione a procedere contro il leader leghista per il caso Gregoretti, con l'accusa di sequestro di persona per i 131 migranti rimasti per quattro giorni sulla nave militare prima dello sbarco. Continuo a chiedere al mio gruppo parlamentare di disubbidire a quello che tutti gli avvocati mi stanno chiedendo. Io ho una parola, una faccia, facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio paese o se sono un criminale. Usciamo da quest'aula e facciamolo decidere a un giudice. A differenza di quanto avvenuto in giunta quando per volontà dello stesso Salvini votarono per il sia al processo, oggi i senatori leghisti sono usciti dall'aula. È uno dei tanti paradossi che accompagna questa vicenda. Le forze di maggioranza hanno votato per l'autorizzazione anche i 5 Stelle che invece, nel caso precedente della 18, si schierarono al fianco dell'allora alleato dopo una consultazione online che questa volta è mancata. Siamo convinti che Salvini debba andare a processo perché deve giustificare il fatto che ha agito in totale autonomia e senza condivisione con il governo. Spiccano nell'aula gremita del Senato i banchi vuoti del governo. Ora Salvini sarà giudicato dal Tribunale di Catania.